Buongiorno, buon anno e bentornati a tutti quanti da Trend Positioning Daily. Io sono qua con Gian Massimo per la nostra analisi quotidiana. Bentornato Gian, buon anno e questo è il primo Trend Positioning Daily del 2023. Auguri per questo traguardo, Jonathan. Primo tipo i Daily del 2023 che aspetta a te stavolta. Quindi buon anno anche a te, buon anno a tutti ragazzi. Bentornati e pronti per ripartire. Assolutamente, quindi oggi lunedì 2 gennaio, noi siamo di nuovo sul pezzo da questo punto di vista e facciamo l'analisi praticamente di venerdì 30 dicembre, quindi come primo Tipi Daily andiamo a vedere il resoconto finale del 2022, quindi analizziamo l'ultima giornata di mercato da domani, vediamo un attimino se almeno c'è la crema dolce su questo panettone amaro ma i dati che stiamo per andare ad analizzare non la pensano uguale. Allora, parto con la nostra analisi di tutto quello che è stato ovviamente l'ultima giornata del 2023, un Fear and Greed Index che comunque tende finalmente ad andare un pochettino sulla paura. SP va con un meno 0,25, sono tutte chiusure negative rispetto alla barra precedente ma sono tutte candele, diciamo, positive per quello che ci possa interessare in questo momento banalmente solo il colore. Quindi meno 0,25 ma da inizio anno meno 19,4. Quindi chiusura molto molto amara da questo punto di vista per l'SP500. Vado con il Russell, quindi con le small cap di nuovo sempre candela verde negativa sulla giornata precedente, meno 0,28 e da inizio anno anche il Russell non ha performato molto bene, infatti si chiude peggio dell'SP500 che va a meno 21,6 punti percentuali. Dow Jones, meno 0,22% nella giornata del 30 di dicembre ed è quello che, tra virgolette, ha performato meglio durante il 2022 che chiude solo con un meno 8,8% da inizio anno. E per finire, il dato che ci interessa un pelo di più in quanto la maggior parte dei titoli che tradiamo sono all'interno del Nasdaq, meno 0,11, quindi una giornata praticamente piatta rispetto alla giornata precedente del 29 dicembre, ma il Nasdaq è quello che ha subito di più di tutti i crolli del 2022 con un meno 33,1%. Quindi diciamo che se aveste investito 100.000 euro a inizio anno il panettone è stato amaro, da questo punto di vista, per chi ha comprato gli indici ovviamente. Assolutamente, Jonathan. Abbiamo avuto un po' la conferma ufficiale, quindi mercato ribassista, mercato assolutamente orso, mercato che chiude un 2022 come il peggior anno, guarda caso, dal 2008. Quante volte lo avevamo detto, non è che siamo qua per, come dire, darci la pacca sulla spalla, però un po' sì, perché noi abbiamo sempre un approccio molto rispettoso nei mercati, molto umile, nel senso che non abbiamo la presunzione, paradossalmente rispetto a quello che si pensa e che si possa pensare o che possa arrivare anche a chi ci ascolta alcune volte a livello percettivo. Abbiamo spesso, è vero, lo dico con assolutamente totale trasparenza e totale, come dire, onestà anche, no? Abbiamo sempre un atteggiamento molto sicuro nei confronti del mercato, che però è un discorso di confidenza e di consapevolezza. Non è mai un discorso sicuro, nel senso che noi sappiamo sicuramente quello che succederà nei mercati e che siamo sicuri che non perderemo mai soldi nel mercato. No, no, assolutamente non ha niente a che fare con tutto questo. Il nostro approccio è un approccio sicuro perché rispettiamo il mercato molto più di quanto non facciano altri, nel senso che noi abbiamo iniziato un capitolo del nostro libro, ma anche del nostro percorso Raptor, dicendo che i mercati hanno sempre ragione, gli investitori spesso no. E questo è un paradosso, nel senso che da una parte diciamo che noi siamo sicuri e convinti che il mercato sia sempre lo stesso, tra virgolette, nonostante sia diverso nella forma del perché certe cose succedono, ma è sempre lo stesso in termini di struttura. Sto scrivendo un articolo in questi giorni, come ho promesso alle persone che ci stanno seguendo, ormai più di mille persone nel nostro gruppo, di come battere il mercato nel 2023. E sarà, secondo me, molto rivoluzionario come articolo, come post, perché non parla assolutamente di quali tecniche avere, di quale palla sfera magica avere per trovare il prossimo grande titolo, per sapere dove sarà il mercato fra sei mesi, per sapere quale sarà il titolo che crollerà di più o salirà di più nel 2023. Quindi, in realtà, parlerà di struttura di mercato. C'è una struttura che viene chiamata The Pixar Story Structure, ovvero la struttura delle storie della Pixar, che praticamente è sempre la stessa. Pixar sono geniali, come sappiamo, nel loro modo di fare delle cose. Fra l'altro, se non avete avuto avanti a vedere Avatar, questi giorni scorsi, quindi Pixar, Disney, ma tante altre case di produzione, sono geniali in quello che fanno. Eppure, quello che fanno è sempre la stessa identica cosa. C'era una volta e questo portò a quest'altra cosa, quest'altra cosa portò il personaggio a diventare quest'altro personaggio che non ti aspettavi, ma l'ho dovuto fare per questo motivo, questo l'ho portato ad affrontare queste difficoltà, queste difficoltà lo hanno portato a diventare poi quello che noi oggi tutti conosciamo e apprezziamo, eccetera. Ed è sempre la stessa struttura. Perché? Perché la struttura dell'ospettatore, la struttura mentale dell'ospettatore, per percepire quella storia entusiasmante, ci si sente parte della storia, ci si emoziona, funziona così ed è una nostra struttura mentale. È inutile voler fare i creativi, fatemi utilizzare questo termine, e pensare che la storia debba essere il contrario. Se poi si è particolarmente geniali, allora si riesce anche a farlo, ma funziona sempre nella stessa identica maniera. E nei mercati è uguale. Quindi, per chiudere quello che avevo iniziato a dire, con un po' di pacca sulla spalla, è un anno che dicevamo che ci trovavamo in un mercato ribassista, ancora quando il mercato non era, o meglio, più che ribassista, perché anche qui, apro una piccola parentesi, la differenza fra un mercato ribassista e una contrazione ribassista, quindi la differenza fra un mercato orso, un mercato bearish, e semplicemente un ritracciamento di mercato, è un numero convenzionale, che è quello del 20%. Se il mercato è crollato del 7%, è un ritracciamento, se è crollato del 20% e oltre, si parla di mercato orso, di mercato ribassista. E noi parlavamo di mercato orso, di mercato ribassista, quando ancora queste percentuali non erano state raggiunte, perché abbiamo un metodo, abbiamo dei modelli di rischio, che ci permettono di guardare dietro le quinte, di sapere che cosa sta succedendo, a prescindere da quello che sta succedendo negli indici. Quindi un finale di anno che ha confermato non solo le nostre teorie, perché la teoria è bella e interessante, ma arriva fino ad un certo punto, ma ha confermato anche i nostri rendimenti in portafoglio, quindi abbiamo chiuso il portafoglio del 2022 in positivo, e non parliamo dell'1%, e stiamo ancora completando gli ultimi calcoli, per dare la cifra precisa, non mi va di dare un numero falso, quindi stiamo ancora concludendo gli ultimi calcoli, per dare la cifra esatta, ma non parliamo dell'1%, siamo molto più vicini al 10%, 9-10%, quindi un anno fenomenale. È un anno fenomenale, perché il mercato, quindi investire nei mercati, significa guadagnare mediamente l'8%, noi abbiamo guadagnato quella cifra in un mercato ribassista, quindi se riusciamo a guadagnare quella cifra al nostro primo ufficialmente mercato bearish, che cosa significa? Pensate che cosa vuol dire, e che cosa può creare il metodo in un mercato rialzista. E quello che può creare è quello che è successo poi nel 2020, quando il portafoglio ha fatto più 100, quasi 40%. Quindi è molto interessante, perché? Perché ricordiamoci sempre che il nostro modo di essere sicuri nel dire delle cose non è mai essere sicuri che non ci sarà un anno in cui andremo in negativo. Io so per certo che nel resto della mia carriera ci sarà più di un anno in cui probabilmente chiuderò in negativo, ma so anche che quell'anno in negativo arriverà dopo anni dove ho fatto più 100%, più 80%, più 120%, e quindi chiudere a meno 5, meno 8, meno 10 quell'anno sarà totalmente irrilevante, perché è questo il discorso del lungo termine. Nel lungo termine quel 10% che segue uno più 80, più 60, più 100, più 120 è totalmente irrilevante. Quindi siamo sicuri che ci saranno anni in cui non guadagneremo, ok? Negli ultimi 7 anni non è mai capitato, nonostante il mercato più negativo degli ultimi 20 anni, quindi va bene, ce lo portiamo a casa, ma siamo anche consapevoli che questo è un approccio di rispetto nei confronti del mercato che non vuol dire saccenza, che non vuol dire supponenza, che non vuol dire pensare che abbiamo sempre ragione. Probabilmente siamo i primi in Italia a dire che non solo non c'è bisogno di avere ragione 9 volte su 10 ma non ci riusciamo neanche perché Peter Lynch che è il dio nello stock picking dice se sei molto bravo hai ragione 5-6 volte su 10 e noi possiamo dire di essere molto bravi perché mediamente abbiamo ragione il 55% delle volte. È un dato di fatto a partire dei numeri che ci danno i grandi. Non è un Gian Massimo che si convince di essere bravo. I numeri dicono quello che è, ma non è Gian Massimo essere bravo, è Gian Massimo ad aver capito insieme a tutto il team del Trend Positioning Research che i mercati hanno una struttura che una volta riconosciuta e rispettata fare trading diventa una conseguenza. Perdere è una conseguenza ma anche guadagnare di più delle perdite è un'ulteriore conseguenza. Quindi prima arriva la struttura poi arriva tutto il resto. Ho parlato per 12 minuti perché? Perché credo che sia il messaggio più importante che chiunque ci stia ascoltando deve portarsi per tutto il 2023. Se voi volete fare meglio del 2022, se avete perso soldi e volete smettere di perderli, se volete battere il mercato, se volete costruirvi una pensione, se volete crearvi una fonte di reddito alternativa, se volete raggiungere la libertà finanziaria, è irrilevante quello che voi vi mettete come appellativo. È irrilevante la medaglietta con il tesserino, con il nome direttore, responsabile, manager, capo aria, è irrilevante il nome che vi date. L'unica cosa che conta è sapere come funzionano i mercati, riconoscere e rispettare che c'è una struttura di mercato che funziona in quella maniera da 140 anni, funzionerà così anche per i prossimi 140 e quindi avete soltanto due scelte. Continuare ad accontentarvi di essere, di avere risultati mediocre, quindi avere risultati del mercato oppure accettare che dovete imparare che c'è una struttura che si muove in una certa maniera, imparare a leggerla e se volete fare il lancio al botteghino, al box office e avere il film che vende di più nella storia del box office, dovete sempre utilizzare quella struttura. Il fatto che voi non la capiate è irrilevante per il mercato. L'unica cosa che conta è che voi la capiate e la rispettiate. Non potete fare sold out, non potete superare gli incassi del box office di tutti i film e della storia se ad un certo punto cambiate la struttura. Cambia la storia, cambiano i protagonisti, cambia il finale, ma la struttura è sempre la stessa, anche nei mercati. Questa è un metafora molto interessante perché la conosco molto bene, però è giusto, nel senso purtroppo dei nostri studenti dico solo questa cosa, poi in realtà hai detto tutto tu Gian, una delle difficoltà che io vedo spesso dai nostri clienti è l'inabilità di vedere le sfumature, quelli della Pixar tirano dei paletti come hai detto tu, si inizia così e poi come con il carboncino lo sfumano per far diventare un'unica cosa omogenea, è quella la vera abilità del trader, non vedere solo bianco e nero, bianco e nero, bianco e nero, rosso e verde, rosso e verde, ma vedere tutte le, perché alcuni verdi non sono verdi davvero, se li guardi da lontano, se li guardi da vittino magari sono completamente diversi e questa è un'abilità che mi sono reso conto durante quest'anno tu hai applicato migliaia di volte e chi ti segue arranca spesso del vedere che sono tante sfumature, io auguro per i nostri studenti di capire proprio qual è la struttura, il meccanismo e poi capire anche l'abilità di sfumare questo per rendere poi un trade molto più omogeneo in tutto quello che è il mercato. E che altro? Io non aggiungo nient'altro in realtà. Voglio aggiungere una cosa, il motivo per cui le persone arrancano è che dare dei nomi alle cose e sapere che è soltanto bianco o nero mentalmente è molto più facile. Yes. Ma quando noi diciamo che è bianco oppure nero ci stiamo dimenticando che quello è il modo in cui vediamo le cose ma non necessariamente non necessariamente il modo in cui le cose sono. Se io guardo in cielo adesso c'è luce guardo in cielo e c'è il sole io in questo momento sono in Sardegna c'è un bellissimo cielo soleggiato e io sono convinto che quel sole sia fatto così in realtà quel sole non è fatto così quel sole io lo vedo così semplicemente per come la mia rettina la luce arriva nei miei occhi viene capovolta arriva al cervello quella è l'immagine che ho del sole non è il sole fatto in quella maniera il modo in cui io vedo il sole in questo momento il sole non è fatto così è il modo in cui io percepisco quella determinata cosa quindi se litigo con Jonathan perché io dico il sole è fatto così e Jonathan però ha studiato di più e sa che ha visto il sole con il telescopio e dice no guarda che il sole non è fatto così questo è semplicemente il modo in cui tu lo vedi ma non è così questa non è la struttura del sole è solo il modo in cui io la vedo e nel trading succede esattamente la stessa cosa quindi il problema non è che le sfumature non esistono il problema è che le persone guardano il sole e litigano sul fatto che il sole sia fatto in quella maniera è fatto anche in una maniera molto più spesso banalmente io sono a Bologna guardo fuori e dico non c'è il sole oggi non esiste è solo più nuvoloso qui ma in realtà no non esiste è uno degli scalini che auguro di fare a chi ci segue quest'anno cioè quello di capire dove sono i paletti e dove sono le sfumature cioè capire che a volte tu dici bianco a volte dici nero non perché sia bianco a volte nero ma semplicemente perché dipende l'inclinazione anche come assolutamente parleremo di due cose in tutto il 2023 più di qualsiasi altra cosa vedete che stiamo qua due minuti di grafici e quindici minuti di altre cose ci sono persone che diranno che noia sti due che parlano del sole che è così invece non è così e va bene così perché io vi ringrazio perché saranno le persone da cui guadagnerò soldi mentre loro comprano Tesla mentre io la sto vendendo va bene così ce ne saranno altre che capiranno un pezzettino alla volta che il mercato è esattamente la stessa cosa e quindi parleremo di due cose più di ogni altra cosa per tutto il 2023 una delle cose più importanti di ogni trader è avere chiarezza mentale quindi da parte nostra la chiarezza mentale è sapere che parleremo di due cose per tutto il 2023 e chi le percepirà chi le recepirà chi le metabolizzerà e le renderà pratica farà un salto enorme da qua ai prossimi 363 giorni ormai e quindi chiarezza mentale sarà un argomento che porteremo avanti per tutto il 2023 ovvero chiarezza mentale significa accettare che quello che sto guardando guardarlo per come è e non per come io penso che sia il mercato che sale e invece non dovrebbe salire perché secondo me i tassi la Fed il bilancio di quell'azienda dovrebbe dire un'altra cosa quello significa guardare il sole e dire il sole è così il sole non è così io lo vedo così ma non è così e guardare il mercato in quella maniera si chiama chiarezza mentale e poi consapevolezza della situazione consapevolezza della situazione avere consapevolezza di quello che sta succedendo in questo momento ora e adesso non è fare filosofia è che io non posso sapere cosa succederà domani nei mercati cosa succederà fra sei mesi cosa succederà fra un anno sì lo so che fra dieci anni probabilmente il prezzo dell'S&P sarà più alto rispetto a quello che vediamo oggi ma sì e quindi altrimenti torniamo al discorso ne parlavamo prima Jonathan eh ma allora se sappiamo già che i mercati crolleranno nei prossimi sei mesi perché non shortiamo tutto e vai sì e se però adesso il mercato sale del 15% prima di crollare del 50% e quindi l'unica cosa che devo fare è essere consapevole del fatto che in quanto essere umano posso vedere quello che sta succedendo oggi interpretarlo e mettere in una scala di probabilità che cosa potrebbe succedere dal punto di vista probabilistico rispetto a quello che non potrebbe succedere cioè in termini di probabilità vedendo il mercato oggi è più facile che domani che per i prossimi 5 giorni 10 15 20 salirà oppure crollerà e stiamo già parlando tanto di 20 giorni no? Generalmente abbiamo una oscillazione di 3-5 giorni che non vuol dire che devo comprare oggi e tra 5 giorni vendere e poi ricomprare di nuovo e poi rivendere non è questo il punto il punto è che se oggi devo comprare e devo investire dei soldi devo sapere se nei prossimi 3-5 giorni il mio capitale mi può dare uno spazio un cuscinetto dove io posso dire che potrà crescere oppure se mi arriva contro subito quindi consapevolezza della situazione ovvero guardare il mercato sapere che cosa sta succedendo dietro le quinte in quella giornata specifica e quindi sapere se le aspettative che oggi nel mercato sono di un certo tipo oppure di un altro perché perché se ho l'aspettativa oggettiva in termini probabilistici del fatto che il mercato oggi abbia più probabilità di crollare che non di salire per i prossimi 3-5 giorni se anche vedo un setup magari non lo compro magari non lo compro sbaglio il mercato inizia a salire per i prossimi 3-5 giorni poi ritraccia e poi rinizia a salire di nuovo ci sarà un altro setup arriverà un momento in cui tutto è allineato ovvero la mia chiarezza mentale la mia consapevolezza della situazione e il mercato sono tutti allineati allora le energie convergono tutte nello stesso punto focale ed è lì che la magia avviene è quel momento in cui ho i miei 3-4-5-10 titoli in portafoglio che seguono del 30-50-70-80-100% e ci sono momenti in cui questa cosa non succede e prendo una perdita che dove perdo il 0-5% una dove perdo lo 0-6 una dove perdo lo 0-7 una dove perdo l'uno una dove perdo l'uno e mezzo è irrilevante perché nella mia consapevolezza mentale poi di lungo termine so che quello è un momento in cui il mercato è la mia consapevolezza non sono allineati e quindi quello è il prezzo che devo pagare per poter partecipare al vero torneo quando tutto è allineato questo è tutto quello che faremo nel 2023 hai detto una cosa che è atomica in realtà perché si l'hai detto giusto pochi grafici tante chiacchiere ma la verità è che queste chiacchiere hai appena svelato il segreto per studiare il trading come lo dici tu cioè consapevolezza vuol dire guardare col cannocchiale e comunque non essere influenzati da quello che succede come se vado a guardare gli animali con il cannocchiale non vado a influenzare con i miei pensieri e comprensione di nuovo è sempre un lavoro che faccio su di me quindi i mercati sono di nuovo esterni a noi e li dobbiamo guardare in maniera esterna e non influenzata hai detto hai detto l'hai detto così tra virgolette sembra quasi per scherzo richiacchierando ma la verità è che dietro queste parole che tu hai detto c'è il segreto di capire qualsiasi cosa fare queste metafore io lo voglio dire perché lo diciamo spesso che ho insegnato apprendimento per tanti anni fare delle metafore vedere delle similitudini vedere delle cose è la chiave della comprensione di qualsiasi cosa cioè noi quando guardavamo le stelle i preistorici pensavano fossero dentro un'ampolla incastrate come le avevano viste probabilmente sulla terraferma quindi ecco che questa cosa qua è fondamentale iniziare a fare queste metafore e continuare a vedere il mercato come nella realtà mantenendosi esterni da questa cosa e capendolo in maniera come dire oggettiva farà totalmente la differenza quindi io auguro per tutti quelli che ci seguono quest'anno di lavorare tanto sulla loro comprensione e migliorare la loro abilità di osservare in maniera asettica la consapevolezza poi del mercato e quindi di conseguenza prendere delle decisioni sensate da questo punto di vista senza tanti secondo me assolutamente Jonathan quindi io direi con questo possiamo augurare di nuovo un buon anno a tutti con chiarezza mentale consapevolezza e con il massimo dei gain e dei profitti che si possono tirar fuori dal mercato anche questo in questo 2023 le opportunità ci saranno saranno poche saranno molte non dipenderà da noi dipenderà da noi riconoscerle quando ci saranno e avere una strategia per come dire poterle cavalcare e poterle sfruttare a nostro favore detto questo dal primo trend positioning daily del 2023 a questo punto per davvero buona fortuna e buon trading a tutti per quest'anno ciao a tutti e ci rivediamo domani